Vogliamo o non vogliamo siamo arrivati a questo punto signori. Ultimo pagamento del reddito di cittadinanza perché lo sappiamo che verrà abolito però c'è anche una data per l'ultima volta che daranno i soldi e questa data ultima è appunto luglio 2023 dopodiché se ne parlerà ancora ma non ci saranno più i soldi. In questo mese molti percettori del sussidio riceveranno quindi automaticamente l'ultima ricarica IMSS sempre sulla carta prepagata sempre nelle stesse modalità che ci sono sempre state. Per quasi tutti gli attuali beneficiari arriverà l'ultima ricarica sulla carta RDC in conformità con quanto previsto dal decreto lavoro IDL 48 barra 2023 mentre per alcuni nuclei il sussidio sarà erogato fino a dicembre. Lo stop alle ricariche del reddito di cittadinanza a partire dal mese di luglio riguarderà coloro che a luglio incasseranno la settima mensilità di reddito di cittadinanza del 2023. All'interno del loro nucleo familiare non hanno minori, disabili oppure ultrasessantenni o comunque non hanno sottoscritto un patto di inclusione e ancora valido con i servizi sociali del comune di residenza. Il reddito di cittadinanza rimarrà in vigore fino a dicembre 2023 per i nuclei familiari con minori, persone con disabilità o almeno 60 anni, con un ISEE fino a 9.360 euro annui. A partire dal 1 gennaio 2024, per questi stessi nuclei, verrà sostituito dall'assegno di inclusione che sarà erogato tramite la carta di inclusione e avrà una durata massima di 18 mensilità, rinnovabili per ulteriori 12 mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di 12 mesi è sempre prevista la sospensione di un mese. Nel caso di avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione dell'assegno di inclusione, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui. I nuclei familiari beneficiari potranno ricevere fino a 6.000 euro annui, 500 euro al mese, più un contributo affitto, per le locazioni regolari, di 3.360 euro l'anno, 280 al mese. Il limite sale a 7.560 euro annui nel caso di nucleo familiare composto interamente da persone di età pari o superiore a 67 anni o da persone con più di 67 anni e da altri familiari disabili o non autosufficienti. cari amici per questo video è tutto, vi ringrazio per la visione, mi raccomando lasciate il vostro segno qui sotto, un bel like e se non siete iscritti iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina, è tutto gratis. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. Detto questo vi saluto, mi raccomando vi aspetto al prossimo video, ciao, un saluto da Max.